Festeggiamenti rimandati per la Vis Pesaro. La prima gara che ha visto in panchina il nuovo tecnico Daniele Di Donato è terminata con la vittoria per 1-0 degli sfidanti della Feralpi Salò. Nel post partita il capitano Mattia Gennari ed il mister hanno parlato di una settimana di lavoro e preparazione e di una buona prestazione effettuata dai biancorossi, terminata però con una distrazione fatale che ha concesso la rete del vantaggio agli avversari. Pecchiamo qualche volta di ingenuità sui particolari che andremo sicuramente con il mister a lavorarci perché quelli alla fine fanno la differenza in queste partite che un episodio la può decidere. Quindi bisogna migliorare nei particolari, continuare a lavorare e i risultati arriveranno. Il mello del calcio è che non ci si ferma mai, quindi abbiamo subito un banco di prova importante contro una squadra importante. Cercheremo di vedere gli errori e di migliorare in tutte e due le fasi, sia in quella di possesso che in quella di non possesso. Partita importante, cercheremo appunto di far punti. Contento a metà anche il fanno che nell'anticipo contro il Sul Tirol ha portato a casa un pareggio. Dopo l'1-1 di sabato, il nuovo mister Flavio Destro ha convocato la squadra al Mancini per ripartire subito con gli allenamenti, in vista del turno infrasettimanale di domani contro la Fermana. Passiamo ora al basket perché la Carpegna Prosciutto non si ferma e conquista la terza gioia consecutiva. Alla Vitrifrigorena, nel posticipo della settima giornata di Serie A, conquista due punti importantissimi superando per 85 a 78 il Varese e portandosi al sesto posto in classifica. Un match nel quale la squadra ha dovuto fare a meno di Tyler Kane, dopo che il giocatore è risultato positivo ma completamente asintomatico al Covid-19. Abbiamo vinto una partita che onestamente sappiamo due giorni fa quanti problemi ci ha creato questa assenza di Tyler, perché onestamente con pieno rispetto a tutti gli altri, ma come abbiamo fatto la squadra, l'unico giocatore che onestamente diciamo è insostenibile, perché non ha cambi. Abbiamo provato, avete visto, uguale con stasera, con Simone, ma onestamente facevamo fatica a rispondere alla grande. In solo due riunioni, diciamo così, perché abbiamo fatto un mezzo all'allenamento sabato pomeriggio e stamattina dovevamo cambiare tutto, dovevamo cambiare posizionamento. Speravo che con l'assenza di Tyler ci fosse una reazione da parte degli esterni e devo dire che tutti hanno dato qualcosa in più rispetto alle altre partite e poi veramente una voglia di provarci straordinaria da parte di Marco Filippovic, cito lui per dire poi tutti gli altri dietro. E quando ieri pomeriggio ho visto il coach alle 5, dopo che abbiamo fatto i tamponi, per capire se potevamo giocare o no, cercare di rivoluzionare la tattica che aveva preparato fino a venerdì, tutta basata sulla presenza di Tyler Kane, quando ho visto con il suo carisma, la sua esperienza, con il suo modo chiaro spiegare che cosa avremmo cercato di fare stasera e averlo rivista stamattina ad allenamento, un po' di speranza di poter portare a casa i due punti e di essere per una sera tra le prime quattro, lo dico ridendo anche se non si vede, un po' di speranza il coach me l'aveva trasmessa e credo che l'abbia trasmesso anche tutti i giocatori per come si sono buttati in campo, credo che abbia raggiunto questo obiettivo. Ed è stata una gara combattutissima invece quella che ha impegnato Little Service al Paranino Pizza contro il Matera e che è terminata con un pareggio. Due a due il risultato finale del match, ma la squadra ha fornito una prestazione in linea con quella delle ultime settimane. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato, di nuovo al Paranino Pizza per sfidare il Futsal Genova.